Il mondo che vorrei vedere, quando io parlo ai ragazzi, io dico sempre, non ascoltatemi come una testimone, no, voi ascoltatemi come una nonna, sì, che è stata giovane esattamente come voi, sulle ginocchia avevi la scatola in cui la nonna conservava le nostre foto di famiglia e cominciato ad agitarla, 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 tacatacatacca, avevi un filo con bianco in testa, ma grande, e i capelli che scendevano a boccoli sul vestitino chiaro. Avrivi le gambe scoperte ed eri scalza. Ma io dove ti avevo messo tutti questi anni? Ma dove ti avevo tenuta nascosta? Da domani non puoi più andare a scuola. Noi la ringraziamo tanto, sì, di essere venuta fino qua, però sia chiaro, noi in questa scuola non facciamo politica. Io potrei fare un inventario di tutte le cose che sono accadute, ma anche con quelle belle, anche con quelle cose che sono arrivate bene, così mi sono presa di punto in bianco. Sono in città. Ma dentro mi porto sempre quella bambina a cui un giorno la scuola ha chiuso le porte e adesso lei, 80 anni dopo, mi apre le porte del Senato. Grazie a tutti.